Ciao a tutti ragazzi e ragazze, questo è un video in collaborazione con Alestyle e Simona Sette. Questi video di collaborazione verranno fatti una volta al mese e parleremo dei prodotti principali. Ovviamente ogni argomento faremo vedere tre prodotti che per noi sono i must have. Quindi per questo mese parleremo dei fondotinta che possono essere sia liquidi in polvere, in crema, qualsiasi. E ovviamente per quanto mi riguarda io parlerò per le persone che hanno la pelle grassa come la mia ed io ho un sottotono rosa. Quindi tutto quello che io dirò è per le ragazze che hanno un sottotono rosa e una pelle grassa. Iniziamo con il primo fondotinta che vi voglio far vedere ed è questo, il Kiko All Day Matte. Questo qua ha un SPF 10 nella colorazione Peach Rose, la 01, ha 30 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Questo fondotinta costava 12,50€ ma io l'ho preso 6,20€ se non sbaglio, si 6,20€ con lo sconto. Questo fondotinta l'ho comprato l'anno scorso, qua è quasi tutto vuoto perché ovviamente l'ho utilizzato. Mi sono trovata bene, ovviamente è mattificante, mi opacizza moltissimo il viso. E non dura tanto, questo no, non dura tanto, però devo dire la verità, mi piace perché non vede il distacco tra il collo e il viso. E questa è una cosa che odio, quando vedo delle persone che hanno quel distacco pazzesco del collo e del viso, cioè una cosa orribile da vedere. E quindi questo fondotinta per me è molto buono. Ovviamente, come vi ho detto prima, non dura tanto, quindi diciamo un paio d'ore se li fa tranquillamente. Vi faccio vedere la colorazione. Vi faccio vedere la colorazione, che è questa. Come vedete è uguale al mio incarnato, ed è molto fluido nel metterlo e mi piace tantissimo. Io questo tipo di fondotinta lo metto o con l'H52, la curo, oppure con il pennello di Zoeva, adesso non mi ricordo come si chiama. Comunque, con i pennelli cicciottelli, mi piace molto di più. Poi, andiamo avanti. Come secondo fondotinta vi voglio fare vedere questo, il Deborah Comfort Matte. Questo qua ha un SPF 15 e ha 30 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. La colorazione è 01 Fair. Questo ha il costo di 8,90€. Io questo l'ho preso all'acqua e sapone a Calteggirone, ha 8,90€. Però non ricordo quanto costava, quanto costava esattamente, con il prezzo giusto. Devo dire la verità, è il fondotinta che sto utilizzando adesso. È quello che indosso e mi piace tantissimo. Questo dura molto di più di quello Kiko e mi piace, mi piace veramente. Lo stendo sempre con l'H52 o quello di Sedona Lace. Anzi, a proposito di pennelli. Se volete una recensione sui pennelli o quelli della Sedona Lace, della Curo, eccetera, eccetera, se volete mi iscrivete qua sotto e io vi farò il video a parte. Riprendiamo il discorso dei fondotinta. Con questo mi trovo bene. La sera quando mi strucco non lo trovo tutto, ma lo trovo. Niente, è un fondotinta opacizzante, ovviamente. È molto buono. Io lo stendo tranquillamente, facilmente. Io lo stendo facilmente. Devo dire la verità, mi sono trovata bene. E niente, mi piace molto perché ha la pompettina anche come quello. E come fondotinta liquido, questo è buono. Ah, vi faccio vedere la colorazione. Vi faccio vedere la colorazione. Anche questo, come quello di Kiko, ovviamente lo vedete e non lo vedete. È qua. Questo è molto più lucido, ovviamente, di quello di Kiko. Questo qua è molto più lucido, se vedete, di quello di Kiko. E in questo io devo mettere per forza la cipra, perché anche se è mattificante, mi opacizza, ma dopo un pochettino mi lucida. E quindi ho bisogno di mettere la cipra. Poi, come ultimo fondotinta, ma ovviamente per me il migliore, l'avete visto in tutte le salse, l'avete visto in tutti i miei video. Per qualsiasi cosa l'avete visto, ed è il mio fondotinta della Wicon, il mio amore. È il wet and dry, a 7 grammi di prodotto, con una scadenza di 24 mesi. E questa era la colorazione 3. Ovviamente la confezione era questa, con lo specchietto, il prodotto che non c'è più e la spugnetta che non c'è più. Cosa dirvi? Il prezzo è 9,90€ e io l'ho preso a prezzo pieno, quindi non oso sapere quanto costa quando vengono fatti gli sconti. Non oso sapere quanto costa quando vengono fatti gli sconti, perché forse ne prenderei a quintalate. Ma siccome si è sbriciolato ed era proprio la fine del fondotinta, vi faccio vedere come è. Questo, scusate il dito, questo è il prodotto. E vi faccio vedere. Ovviamente a voi così non vedete niente, ma vi assicuro che è il miglior fondotinta che io abbia mai utilizzato. Questo fondotinta io lo utilizzo a primavera-estate. È un fondotinta bellissimo. È un fondotinta che opacizza, è un fondotinta che ti dura anche tutto il giorno. Non c'è bisogno di mettere né cipre né niente, perché è stupendo. A me dura tanto. E quando la sera mi strucco, io tolgo tutto il fondotinta. Anche vicino all'orecchio. Cioè, anche vicino all'orecchio che rimane del fondotinta, io lo tolgo. Per me è il migliore. Questo, non so se vi ricordate, io ho detto che l'ho utilizzato con il pennello H52 di Aguro o altri tipi di pennelli. Non mi piaceva molto la stesura. Anzi, devo dire la verità, l'avevo accantonato proprio per questo. Ma quando l'ho messo con la sua spugnetta, devo dire che è stata la scoperta del secolo. Per me è il miglior fondotinta del 2013. Per quanto mi riguarda, è il fondotinta preferito del 2013. Perché veramente non si nota nemmeno. Cioè, io quando lo metto, voi non lo notate tranquillamente. Non lo notate. Perché si uniforma bene con il mio incarnato. E ho preso anche di questo fondotinta la colorazione 04. E l'ho utilizzata quando ero molto bronzata. Cioè, molto scura. Ho utilizzato lo 04 e sono andata a cena fuori. E una mia amica mi ha visto e mi ha detto Stefania, hai una bronzatura pazzesca, bellissima, bella, tutto uniforme. Anche il collo ero proprio tutta bronzata. Invece, se voi sapete, quando prendiamo la bronzatura, il collo è l'unica parte, diciamo, più chiara. Invece no. Io ho messo anche il fondotinta, anche qua sul collo. E devo dire che mi faceva un incarnato pazzesco. E quindi io proprio, veramente, ho... Questo fondotinta lo amo. E proprio mi piace tantissimo. Infatti, anche se qua è vuoto, io già l'ho ricomprato. Quindi già ho la scorta. Non so se ve l'ho detto, costa 9,90. Cioè, 9,90, un fondotinta. 9,90, bellissima. Bene, per quanto riguarda i miei prodotti, io ho finito. Io ringrazio tantissimo Alessai, l'Alessandra, che mi ha chiesto la collaborazione. E sono molto, molto, molto orgogliosa di farla in vostra compagnia. Nel prossimo video ci sarà anche un'altra ragazza che non vi dico niente, quindi dovete scoprire chi sarà. Per quanto riguarda Alessai e Simona Sette, vi metterò tutti i link delle loro pagine e dei loro canali YouTube, qua nell'infobox. Come... Vi raccomando, vi raccomando, leggete sempre nell'infobox, perché io metto sempre qualche cosa, o la spiegazione, o se faccio qualche papera, la qualsiasi cosa. Voi leggete sempre l'infobox, perché troverete sempre qualcosa di utile. Poi, un'altra cosa, nei prossimi giorni ci sarà un giveaway nel mio canale, anche nella mia pagina Facebook, quindi state allerta. E poi, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va a noi, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! 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 Ciao!